Mettere un professionista! Un professionista! Ok, sì, cioè, non lo so, forse giocherai più o meno come giocavo io. È così che funziona, sai, io ero abbastanza negato. Quindi? Sì, quindi probabilmente arriverai, non so, al mio stesso livello, forse. Sarai bravissimo in un sacco di cose, in questa non credo, perciò non voglio che stai qui a tirare la palla per tutto il giorno, ok? Ok. Bravo. Vai, tira! Ehi! Sì? Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa, neanche a me. Ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai a insegnarla. Punto. Non è un sogno, non è un sogno, non è un sogno, non è un sogno. Non è un sogno, non è un sogno, non è un sogno. Non è un sogno, non è un sogno, non è un sogno. Grazie a tutti.